turutu 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 tututu tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut e entrare dentro il vortice c'è e oggi cari miei molto probabilmente affronteremo tutto quanto ciò che è più nocivo di tutti i tempi allora dobbiamo stare prettamente attenti il vento per la forza centrifuga ci spingerà verso il fuori ma noi ce la faremo entrare dentro il vortice ok va bene allora andiamo siete pronti let's go ti prego dobbiamo sfruttare appieno anche tooling ok al centro è sempre meglio e let's go allora devo andare assoluto assolutamente da questa parte mi chiedo ma in una delle navi ci sarà per caso qualcosa di raro beh immagino di sì ma non mi va di setacciare tutte le navi perché sono ci impiegheremo troppo tempo detto ciò andiamo let's go allora questa nave sta dicendo vieni a me e noi veniamo a te navicella let's go poi subito paravela e vai tooling grazie grazie tooling ti prego fai sì che venga da me questa piccola nave in questa nave di pirati noi siamo capitati cercando quel tesoro che si chiama one piece ok basta è in mezzo al mare azzurro in questo caso è in mezzo a questo cielo grigio sale il nostro grido giurma giurma andiamo tutti all'arembaggio forza basta vai siamo su zelda tears of the kingdom non su one piece quindi andiamo allora non vedo niente di interessante quindi io tento di andare sempre più in alto quindi let's go allora ok tooling ti prego andiamo qui prima e voglio andare assolutamente da quella parte anche se in teoria possiamo farne a meno ma no possiamo già entrare al dentro al ciclone ma non è che mi sospettisce questa piattaforma perché non ne vedo altre ne vedo una lì e una qui e basta quindi non vorrei che per l'appunto ci sia qualcosa ti prego ok e si ricarica il vigore con questo salto che andiamo sempre più in alto nei cieli ok siamo belli belli che attenti e dai per forza ci deve essere qualcosa no non ci credo che non c'è niente non c'è niente va bene come non detto detto ciò entriamo dentro l'occhio del ciclone e già che bello poterlo dire finalmente ehhh tooling per favore su quella nave su quella nave su quella nave su quella nave 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 ti prego vieni qua perchè se no non so cosa far ok allora io voglio un bel salto in alto e poi verso l'avventura oh si entriamo dentro mamma mia chissà cosa c'è dentro quelle isole quindi let's go tuffiamoci all'avventura questa arca gigante eh detto ciò qui c'è una pace estrema oh no 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 grazie non ci dovrebbe essere niente quindi let's go ok tempio del vento raga questo è il tempio del vento quindi è tipo una sorta di sacrario e scusate di dungeon non lo so non lo so gente e let's go ok atterriamo e cazzin gente cazzin ok wow allora quella che abbiamo visto dentro la nuvola era questa nave è l'avionave dei cieli della famosa filastracca per pulcini ok zelda si è decisamente zelda raga ma io non capisco lei può viaggiare nel tempo quindi eh ed esco wow ok ma eh non c'è dubbio link la tormenta che si è abbattuta sul borgo ha origine da qui ah si e qui che poco e qui che poco fa ho visto una persona avrei giurato che fosse qui ok gente ok dobbiamo interagire con questo va bene non ci sono problemi uh si è sbloccata la cosa ok si abbassano gli ingranaggi si attiva questo ma vedo qualcosa lì sotto gente a parte che non si apre meno male non lo voglio aprire c'ho paura non funziona non si apre ma sono sicuro che l'origine della tormenta sia lì sotto ci deve essere qualche modo raga di nuovo quel suono infatti trilli dai vai il boccaporto che vedi sul ponte è chiuso da cinque meccanismi ok se usi i tuoi poteri nel modo giusto riuscirai ad attivarli tutti quanti e il boccaporto si apre ok bellissimo gente segui queste mie istruzioni l'ho sentita di nuovo questa volta a forte e chiara la voce parla proprio a me ok la tormenta che ha colpito il borgo deve essere partita proprio oltre questo boccaporto se quello che la voce dice è vero il boccaporto si aprirà quando avremo sbloccato i cinque meccanismi gente è bellissimo voglio fidarmi di lei link andiamo a cercare i meccanismi ok allora quindi se attiviamo questo si attiva tutto quanto link ti prego ok andiamo assolutamente qui mi ispira tantissimo questo per primo non so il perché e presumo che ci vuole esatto quindi let's go 1 e per fare le cose con completezza 2 e adesso raga mission impossible tan 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 turutu 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 tututu tututu e sono morto emma emma no no tulin raga mission impossible fra 3 2 1 let's go ok turutu 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 tututu 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 turutu 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 ok questo è un meccanismo presumo ehi link guarda quell'ingranaggio collegato a quella specie di girandola che sia uno dei meccanismi si tulin decisamente uno dei meccanismi ok fatto ok quello la perfetto è uno dei meccanismi cerchiamo gli altri 4 coraggio andiamo ok tulin non c'è problema ma prima un po' di esplorazione da queste parti per chi è sicura mente c'è uno scrigno turutu 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 ok gente cosa c'è qui dentro devo trovare tutti gli scrigni ovviamente spadone da recluta questa qua togliamola dalla borsa perché mi serve posso fare così sì decisamente sì posso farlo ma mi interessa e non poco ciò che c'è qui ok non c'era niente mamma mia se prendevo uno di quei cosi là di quei laser cosa mi capitava non lo so detto ciò voglio andare nel punto più in alto di là ma sì c'è un cannone c'è gente quello è un cannone cosa dobbiamo farci con un cannone noi vediamo ciccio sono qua non mi attacca ok ok sì gente era un cannone presumo reverto io ok annaggia ok palla di cannone rispedita al mittente em em what ok non abbiamo distrutto semplicemente un cannone niente niente di che em quello là cortesemente tulin cortesemente tulin grazie aiutami tu allora se io vado a zigo zago posso anche recuperare qualche freccia giusto grazie tulin grazie ok no mi serve tulin bravo tulin bravo 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 em let's go ok e quest'arco non lo voglio ok allora dove dobbiamo andare ci dice esattamente che sta qui qui dentro sta ah facile dobbiamo andare qui dentro no non è così facile ok gente dobbiamo trovare un modo detto ciò mi viene in mente che posso fare questa cosa qui con questo e aspettate non voglio sprecare uno scudo così buono ma già ce l'abbiamo noi ho sprecato una cosa molto forte ok uno scrigno niente male lancia da caporale questa togliamola si allora 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 penso che a questo punto da sotto dobbiamo fare qualcosa quindi proviamo da qui gente perché presumo che ci sia qualcosa come per esempio questo qui perfetto e noi siamo entrati tu via tu pure però magari se l'occhio ce lo davi cortesemente grazie no 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 devo sbregare un altro ok gente aspettiamo un attimo va e a quanto pare c'è uno cattivone e di nuovo mission impossible lo dobbiamo fare in poche parole eh questo qua lo spadone uh grande tulin let's go non ti facciamo più alzare ah ok e qui andiamo sotto ok prendiamo questo frutto uh uh aspettate tatatatatatara non dobbiamo prendere niente pam pam pa-da-pam pa-da-pam ok oh ce l'abbiamo fatta e prendiamo questo scrigno ok rubino wow ok ehm come faccio no no male 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 ehm tool in tool in tool in tool in tool in tool in ok ok allora vai sali con calma link let's go devo andare di qua non mi prendere tu ok allora poi di nuovo vero gente non non siamo poi riusciti a farlo detto ciò let's go e qui abbiamo una il pentolone portatile e l'altro ok ce l'abbiamo fatta molto probabilmente ultramano bravo ok ci apre questa cosa molto interessante ora ora perfetto lì c'è un rubino quindi va bene per me sprecarne uno per riottenerne uno ok spada arrugginita questo va bene ma ah gente ah ascensium ok se è così facile va bene poi devo andare di qua presumo ok gente uno e due apriamolo e vediamo cosa c'è dentro lama da capitano ok let's go ne possiamo creare pure noi questi ingegni ma preferisco conservarli per le frecce sinceramente presumo che devo fare una sorta di questo e poi ultramano e muoverlo per quale strano motivo per aprirlo ok si è chiuso subito ma se utilizzo il reverto gente e sto attaccato qua ok gente ha funzionato chiudi allora qui c'è qualcosa inaspettato si ok ok è ok fatto tutto fatto era la stanza chiusa di prima basta che noi ci mettiamo qua e tu lì grazie let's go secondo meccanismo sbloccato ci sblocca anche questa porta senza fare di nuovo il giro da tutte le stiamo facendo completamente a caso ok si meno male allora poi dove dovremmo andare secondo la mappa ce n'è uno qui secondo piano qui abbiamo finito qui piano terra dove siamo ora uh gente questo è interessante ci stanno due al primo piano può essere che ci dovremmo andare dopo detto ciò facciamo questo prima e sapete che c'è mi da fastidio quello lì quindi let's go la stessa cosa con lui però a sto punto utilizziamo questo che ha un più cinque d'attacco perfetto almeno l'abbiamo sturnato e let's go ok questo fatto non penso non penso che possiamo utilizzare qualcosa gente noi non ci dobbiamo fare domande noi seguiamo l'istinto ehm grazie grazie ok ultramano e let's go se vediamo un pezzo di ghiaccio ovviamente dobbiamo aprirlo no ok sta letteralmente qui dietro come ci arriviamo però scudo di zonaio molto buono ehm possiamo utilizzare ascension quindi utilizziamolo mo ci porta tipo in cima non in cima però quasi ehm ok per sicurezza qui non possiamo fare niente ok perfetto andiamo da questa parte esplodi ok questo mi da cose molto interessanti e tu eh va bene allora prima controllo se non ne ho un altro no purtroppo ti prego allora scudo questo annulla compositor ok ok ehm poi questo ne abbiamo già consumati tre per errore gente per errore quindi zadelle e let's go ehm cassa perfetto ok 10 frecce ok ne ho consumate tre quindi va bene ehm da questa parte niente a questo punto io direi di andare lì lì dato i che hanno dato 10 frecce eh mi piace tantissimo far sì che questo mamma mia ok vai 10 10 10 10 ok arco golem rinforzato non ci interessa frutto glaciale abbiamo ok allora questo è spezzata molto probabilmente dovremmo utilizzare tipo questo qui con l'ultramano quindi let's go poi facciamo così ehm no ma sta malissimo ok devo appiccicare così tipo ok quindi let's go perfetto è il secondo congegno il terzo congegno che abbiamo fatto quindi dov'è Tulin Tulin tu devi stare vicino a me ok abbiamo sbloccato il terzo meccanismo perfetto ok per scrupolo io controllo anche quello cioè gente sicuramente ci sarà qualcosa uno scaligno perché non penso che l'altro meccanismo si trova qui ma per sicurezza facciamo così e gente quanto ce lo sapevo Emma ok perfetto l'abbiamo gestita abbastanza bene quindi let's go freccialegno freccialegno un sacco di freccialegno e qui abbiamo ottenuto cosa uno pale molto va bene va bene va bene allora qui abbiamo finito non ci resta che la zona sotto quindi andiamo ci dobbiamo catapultare anche se quello non mi piace affatto detto ciò qui cosa abbiamo delle frecce non si buttano mai delle frecce gratis gente detto ciò detto è lo stesso di prima presumo di sì di sto passo ok gente ci siamo salvati per miracolo quindi let's go mamma mia che rischio allora se quello è aperto sì se no no e come facciamo a capire se è aperto guardando sì l'abbiamo fatto col lato quindi e da questo lato mamma mia stiamo rischiando tantissimo gente allora si può già vedere chi è il boss forse era meglio se non guardavo forse allora ok da quest'altra parte non ti azzardare a fare nessuna mossa sono una piccola libellula ok gente siamo entrati ok allora sono stra curioso su come è un po' strano quindi devo fare ti prego ti prego ok quasi quasi l'importante è che ce l'abbiamo fatta per metà ok quindi let's go bastava avvicinarlo un pochettino e ce l'abbiamo fatta mamma mia quanto sono fiero di me zaffiro non devo strillare un prezioso minerale blu che si dice racchiude il potere del ghiaccio fin dai tempi antichi viene venduto a prezzi molto alti gente vedo tanti dindi ok detto ciò reverto assolutamente sì quindi ora prima che mi schiacci cortesemente ok prendiamo questo con l'ultra mano ok con l'ultra mano penso che dovremmo prendere un pezzo di ghiaccio ok e ok penso che l'abbiamo distrutto in più mi servirebbe uno scudo come il tuo allora non posso prendere i pezzi di ghiaccio ma li posso comunque rompere penso che quella stalactite se non sbaglio è questa cioè si chiama così devo collegarla perfettamente come come volete che la colleghi perfettamente collegarla così in modo tale da fare questo piano aspettate eh lo sapevo però se fa un altro giro però volevo ok perfetto ah ce l'abbiamo tulin vieni qua cortesima mente e let's go ce l'abbiamo fatta ah è stato arduo non devo ammetterlo quindi ne manca uno di meccanismo ok dove per la precisione non è che dobbiamo andare proprio sotto la barca finchè la barca va lasciala andare finchè la barca va tu non remare gente io vedo una rientranza lì non vorrei dire ma proprio giusto giusto ti prego questo è fortissimo ok ce l'abbiamo fatta ok quindi resumo tulin grazie ok gente abbiamo sbloccato tutti i meccanismi e tutto quanto ora molto probabilmente dovremo attivare quello ma presumo ok tulin ma presumo che così si si sblocca il boss e io non lo voglio fare adesso ah non ci resta che andare lì pronti let's go non ci resta